Siamo in diretta con la consuetta anteprima mondiale della rivista Bellunesi nel mondo. Sta per arrivare nelle case di tutti i nostri associati il numero 2, il numero di febbraio dedicato proprio. Adesso ve lo farò vedere al carnevale. Ormai mancano davvero pochi giorni per il carnevale. Non potevano mancare una bella copertina dedicata proprio alle maschere tipiche della provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo alla copertina del numero 2 di febbraio di Bellunesi nel mondo. Ecco come si apre appunto quest'ultimo numero che sta per arrivare nelle case di tutti i nostri associati. Guardate che bella fotografia che rappresenta una serie di maschere tipiche del carnevale bellunese. Appunto il titolo che accompagna la foto è Nostalgia di Carnevale. Adentriamoci all'interno con l'articolo di fondo di Dino Brida, il direttore responsabile. Dopo convulse e poco onorevoli trattative, grazie Presidente però. L'articolo di fondo è dedicato alla elezione, alla riconferma di Sergio Mattarella alla guida del nostro paese come Presidente della Repubblica. Questo è il titolo e leggiamo una parte. Morto il re, viva il re anche quando è la stessa persona. Appunto e basta sulla rielezione del capo dello Stato che cosa aggiungere a quanto scritto sui social e che hanno asfaltato il Parlamento con commenti da codice penale. Se la sono cercata, certo, il sistema dei partiti ha recitato una squale da commedia che ha estinto ogni loro credito. Finale Amaro, la richiesta a Mattarella di sconfessare i ripetuti di Nieghi ha persino indotto qualcuno a dargli esageratamente del Volta Gabbana commettendo il viripendio dell'istituzione. Ma andiamo avanti, ecco un primo piano quindi di Sergio Mattarella appena riconfermato alla Presidenza della Repubblica. Foto del mese dedicata a Belluno con il passaggio davvero pericoloso di una mongolfiera vicino al centro storico di Belluno. Bellunoradici.net dedica spazio a Paolo Forlín, un archeologo labonese. All'università ho scoperto il corso di archeologia medievale, un incontro affascinante che mi ha fatto conoscere un modo completamente diverso di studiare i temi che mi interessano di più, la mentalità medievale, le campagne, i castelli, le città di questo periodo storico. L'intervista a firma di Marcella Corrà. E sempre a firma di Marcella Corrà, un'intervista a Francesco De Bettin, il comelico del domani a Tupertu con l'imprenditore appunto Francesco De Bettin. Andiamo avanti con piccole imprese, arrivano 6 milioni di euro da provincia, fondi di confine e Gallo. Un approfondimento anche a Lida Standard che fortunatamente ha mercato e spazio anche alle visioni future a firma di Leonardo, del vecchio patrone di Luxottica. Lettere in redazione, non possono non mancare le lettere in redazione come ovviamente i libri, i documenti ricevuti, le recensioni a firma di Gioacchino Bratti. Ripeto, tutti questi libri li trovate nel catalogo della Biblioteca delle Immigrazioni Dino Buzzati. Gli approfondimenti di attualità ci portano a Berlino, Tricolore a Berlino, la capitale tedesca è una delle principali mete degli italiani, articolo a firma di Simone Tormann e ancora un sostegno più europeo per il mondo dell'editoria, articolo a firma sempre del nostro direttore responsabile Dino Britta. Ma si parlerà anche di turismo delle radici, grazie al PNRR, la Farnesina ha lavoro per potenziare il settore e ci sarà ovviamente anche l'Associazione Bellunesi nel Mondo. Italiani nell'Europa sud orientale, un progetto di cui fa parte e collabora anche l'Associazione Bellunesi nel Mondo. Sempre dall'attualità fu una martire emigrante, Angelina Zampieri, il comune di Belluno le dedica una piazza e ancora punti di vista il cadore raccontato da un cittadino del mondo. Un richiamo per quanto riguarda la foto di copertina, nostalgie di carnevali, gemme della cultura alpina, articolo a firma di Dino Britta e ringraziamo in questo caso anche il fotografo, il servizio fotografico Franco Olivieri Flor per averci omaggiato di queste bellissime fotografie dedicate appunto al Carnevale bellunese. La rubrica Bricioli Storia, firma di Paolo Doglioni, dedica spazio a Pietro Pagello, un bellunese esemplare. Non mancano le foto e i documenti dell'immigrazione, anzi l'invito ai nostri soci ma anche a tutti gli amici dell'Associazione Bellunesi nel Mondo affinché ci invino il proprio materiale fotografico, lettere e quant'altro riferite all'immigrazione bellunese. Per maggiori informazioni contattate Simone Tormene alla email aleteia chiocciolabellunesi nel mondo.it. Foto di una volta ma anche cartoline di una volta, la Belluno che non c'è più, la provincia di Belluno in questo caso due cartoline sempre dell'archivio fotografico di Lino Budel che ci portano a Fener e sempre a Fener negli anni degli inizi del Novecento. E ancora Duomo di Lamono, un edificio religioso costruito con il contributo degli emigranti, articolo a firma di Marcella Corrà, viaggio nella spiritualità, la rubrica a cura del diacono Francesco D'Alfonso, disuguaglianze e conflitti, una riflessione che ci porta alla 55esima giornata mondiale della pace che si è svolta il primo gennaio 2022. Spazio anche alla consulta dei Veneti nel mondo, i consultori incontrano l'assessore Corazzari per approvare il programma 2022 e il programma triennale per l'ABM rappresenta la consultrice Patrizia Burigo, rubrica invece di mese in mese con notizie e curiosità che ci portano da una valla all'altra della provincia di Belluno. Per quanto riguarda i bellunesi di cui si parla, spazio a Emma De Pellegrini, 70 anni pensate di contributi versati, una storia di lavoro anche all'estero e ancora prima Bertoglia, un secolo di vita da raccontare e Daniele Barduca, i suoi salumi arrivano fino a San Pietroburgo. La rubrica firma di René Savaris, Belluno Dolomiti, percorsi tra natura, cultura e puntini puntini, è un'intervista a Olga Riva Piller, la signora dei colori ed ecco un primo piano di Olga appunto intenta con le sue pitture davvero delle opere d'arte. Belunesi nel mondo dello sport, a firma di Marco Dincà, Coppa del Mondo, Sofia Goggia e Delena Curtoni colorano cortina d'azzurro. Spazio anche alle riflessioni linguistiche con la rubrica di Raffaele De Rosa, il mio italiano quotidiano e ancora la rubrica firma di Giochino Bratti, il nostro dialetto con la poesia, le barzellette e i proverbi bellunesi, tassativamente in dialetto bellunese. Non possono non mancare nemmeno le storie dei nostri emigranti, ben due ad Alvise, un suo meritato ricordo e ancora Sante Santo Salchini da ballada alla fine del mondo. Tornano anche l'agenda delle famiglie, in questo caso una notizia che è un omaggio all'amico Beppi Deone, è venuto a mancare il presidente della famiglia bellunese di Lucerna, bellunesi anche che sono andati a Cutina in Croazia nei mesi precedenti e anche in questo caso la gioia dei bellunesi di Roma che finalmente ci sono ritrovati a fine anno per un pranzo assieme. Torna anche la rubrica tra gli ex emigranti, concorso sull'immigrazione, su iniziativa della famiglia ex emigranti del Longaronese, anche la famiglia del Longaronese vuole ricordare Marino Bez, storico socio del sodalizio del Longaronese, è venuto a mancare all'età di 83 anni lo scorso 19 gennaio. Ancora tra gli ex emigranti, 40 candalini invece in questo caso per la famiglia bellunese del Cadore. E termina l'edizione di Bellunesi nel Mondo ovviamente con un ricordo dei soci che ci hanno lasciato. Questa dunque è l'anteprima mondiale del numero 2 febbraio 2022 della rivista Bellunesi nel Mondo che sta per arrivare in tutte le case dei nostri associati. Vi ricordo che potete ricevere la rivista, basta diventare soci dell'associazione Bellunesi nel Mondo. Tutte le informazioni le trovate direttamente nel nostro sito www.bellunesinelmondo.it E non finirò mai di ricordarvi che con la vostra quota non solo riceverete mensilmente la rivista Bellunesi nel Mondo, ma sosterete le molteplici attività della storica associazione Bellunesi nel Mondo. Dalla sede, con i suoi uffici, con il suo personale, alla Biblioteca delle Immigrazioni di Robuzzati, al Minbelluno, Museo Interattivo delle Immigrazioni, a Radio ABM. La radio ormai, possiamo dire, tra virgolette, è storica, è da 5 anni attiva, inintoratamente 24 ore su 24, ma il Centro Studi sulle Immigrazioni alle Teie è l'ultimo strumento nato proprio nel 2021, ovvero Accademia ABM, la piattaforma e l'orni dell'associazione Bellunesi nel Mondo, e anche tutte le altre attività che comunque continuano a formarsi e a crearsi all'interno della sede dell'associazione Bellunesi nel Mondo. Quindi grazie ai nostri soci che continuano a sostenerci, anche a grazie a chi lo vorrà. Tutte le informazioni le trovate nel sito www.bellunesi nel mondo.it. E anche quest'anteprima mondiale dedicata al numero 2 febbraio 2022 della nostra rivista Bellunesi nel Mondo termina qui. Ovviamente noi ci rivediamo il prossimo mese con l'edizione dedicata al numero di marzo. Ovviamente il commentato di redazione è già pronto a incontrarsi per elaborare, per scrivere e per programmare appunto il contenuto del prossimo numero. Quindi fra un mese saremo sempre qui. Grazie ancora a tutti e mi raccomando, sostenete l'associazione Bellunesi nel Mondo. www.bellunesi nel mondo.it